Buoni amici! Oggi, tra i migliori top, vi proponiamo uno dei migliori modelli del produttore di idropulitrici Karker. La Karker K7 Power Eye Pressure Cleaner è riuscita a posizionarsi come una delle migliori idropulitrici. Intelligenti sul mercato, ma ne vale davvero la pena? In questo video vi mostreremo le sue principali caratteristiche, in modo che possiate decidere da soli. Nella descrizione e nel primo commento sono presenti i link per l'acquisto, dove è possibile controllare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Siete pronti? Eccoci! Alfred Karker GMB HECO è un produttore tedesco di sistemi di pulizia. Fondata nel 1935, con quasi 100 anni di esperienza aziendale, è diventata la scelta preferita di molti per i suoi prodotti di qualità per una pulizia migliore e più efficiente. Iniziamo con una delle caratteristiche più avanzate di questo modello. Ci dà una pulizia potente. L'idropulitrice offre una potenza di 3000 WV e una pressione fino a 180 bar. L'idropulitrice Karker è pronta per qualsiasi sfida. In un'ora è possibile pulire un'area fino a 60 metri quadrati. L'idropulitrice K7 è la soluzione giusta per un'ampia gamma di operazioni di pulizia. È dotato di una potente gamma di accessori, il massimo comfort di utilizzo con la pistola ad alta pressione, l'ugello turbo, la lancia Vario Power e il sistema di pulizia Karker Plugin Clean lo rendono il tuttofare ideale per la pulizia. Il prodotto è dotato di un sistema operativo ergonomico. Il tubo flessibile ad alta pressione ha una lunghezza di 10 metri che offre un ampio raggio di pulizia. Potrete pulire con estrema facilità terrazze, veicoli, mobili da giardino, recinzioni, sentieri, pareti o facciate. Ricordate che potete trovare il prezzo, le offerte e le recensioni nei link nella descrizione e nel primo commento del video. L'idropulitrice Karker è ecologica in quanto può essere utilizzata in alternativa con l'acqua di un serbatoio. È sufficiente collegare il dispositivo alla rete idrica. La pompa ad alta pressione fa uscire l'acqua in un flusso potente che rimuove senza fatica anche lo sporco più ostinato. Ecco quindi un prodotto ecosostenibile. L'ultima chicca è la Lancia Vario Power Jet. Con esso, la pressione del getto può essere regolata in modo continuo. Per passare da un getto a bassa pressione a uno ad alta pressione è sufficiente ruotare la lancia. È molto utile per rimuovere le asperità e lo sporco che possono essere rimossi solo con la pressione dell'acqua. Nel complesso, si tratta di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, con 4 stelle e mezzo su 5 nelle valutazioni degli utenti. Può essere un ottimo prodotto per voi. Valutate la possibilità che vi stiamo mostrando. Può essere quello che state cercando. Per ora, possiamo solo raccomandare l'acquisto dal link nella descrizione. Avete dubbi su alcune di queste caratteristiche? Scrivete nei commenti e risolveremo il problema il prima possibile. Grazie per essere rimasti fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, sosteneteci con un like e ricordatevi di iscrivervi per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima!